Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore, grazie a voi e pace dal Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamogli insieme, siamo rodati i Sacri Corsi di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Prendete il mio gioco sopra di voi. Santa Caterina da Siena che oggi festeggiamo, nella sua breve vita ci è di esempio. Aprire su di sé il gioco di Gesù è vissuta con lui, con gioia, ma faticando e rischiando. I desideri di Gesù erano i suoi, le volontà di Gesù erano le sue. Le fatiche di Gesù erano sulle sue spalle, sia quando scriveva rimproveri a principi e papi, sia quando assisteva i condannati nel momento della morte. Tutto con lo stesso coraggio e lo stesso amore. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu sei con noi per rendere dolce il gioco e leggero il peso che tu stesso porti con noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla il tuo cuore, ti dice Anima cara, credi che un piccolo sforzo, un minimo gesto, ti fa contento come una madre e felice quando scopre nel suo bambino un piccolo progresso nell'amore. Ed ora, accogli con fede la benedizione del Signore nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo all'intercessione del Beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della divina volontà, ti benedico per imprimere in te un triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sua rana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo, sei rissanato ogni infermità spirituale e corporale, erichita e abilita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le ricevi a tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cielo, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, il viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti dall'animale, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù,